Sono luoghi nascosti nella mente umana, che non dovrebbero mai essere raggiunti, ma a volte il titolo delle safferenze percorre l'avvenuto della psiche e libera il devone latente in noi. Stardo figlio di Troia, bastardo! Il cane andò in cucina, sta vicino al fornello, e con un gran coltello, il cuoco la sgossa! Il cane andò in cucina, sta vicino al fornello, e con un gran coltello!